Amici 18 Di sabato 8 dicembre, i ragazzi di Amici, soprattutto quelli della squadra di Giordana, si sono lamentati di come stanno andando le sfide Giordana ha detto Che Alberto canta solo lirico e i professori, estasiati da questo tipo di canto, daranno sempre un voto alto Questo, secondo i ragazzi, non è giusto perché invece loro devono preparare cover e mettersi alla prova anche con canzoni che non sono in linea con il loro stile per provare di essere all'altezza Alberto non fa nulla per uscire dal suo genere musicale e questo indispettisce molti di loro Amici 18 Secondo lui non c'è una differenza di trattamento perché Alberto esprime il suo 100% cantando lirica, altri esprimono il loro 100% cantando altro Quindi in realtà, è una sfida equa. Alcuni brani forse non colpiranno il pubblico come i brani portati da Alberto, ma sono i professori a dare valutazioni Amici 18 La replica di Alberto.Sentita nell'aria questa discussione e polemica nei suoi confronti, Alberto ne ha parlato con la sua squadra? Quella di Tish Il ragazzo ha ribadito, che il suo genere è pop lirico e che probabilmente i componenti della squadra avversaria sono agitati per le due sconfitte consecutive Come andranno le prossime puntate di Amici 18? Come andranno le prossime puntate di Amici 18?